Di cosa stiamo parlando? Sisma produce macchine per orafi da oltre 60 anni. Noi produciamo macchine per catena, per produrre catename, produciamo saldatori laser per saldare manualmente o automaticamente e produciamo macchine di marcatura e taglio per tagliare o per incidere metalli preziosi. Oltre a queste tre linee principali abbiamo delle stampanti metalliche che permettono di creare gioielli e geometrie su gioielli molto particolari. Solitamente le persone richiedono questi macchinari proprio per creare degli oggetti unici. La particolarità di questa tecnologia è quella di portare una qualità sempre maggiore e a degli oggetti che sono belli e unici di per sé ma aumentare appunto questa qualità. Molte persone pensano ci sia sempre la necessità di un mastro orafo. Secondo lei grazie a questi macchinari è veramente necessario oppure i gioielli possono essere comunque belli? La tecnologia aiuta il lavoro del mastro orafo. Sono due cose che non sono sostituibili una all'altra ma lavorano in sembiosi. La fiera è una bellissima occasione per ritornare qui aperti al pubblico. Come sta andando? L'affluenza di quest'anno è stata non comparabile con le edizioni precedenti. Molto afflusso, molta gente da diverse nazionalità. Siamo contenti. Dove vi possiamo trovare? Noi siamo localizzati a nord di Vicenza, Piovene e Rocchette. Noi siamo localizzati a nord di Vicenza, Piovene e Rocchette.